L'Inter-Napoli è come se tu inizi la prima giornata, dopo più di 50 giorni di sosta ricominci un'altra volta a fare campionato, a ripartire a mille. Napoli non ha fatto bene, non ha fatto una buona partita, non mi è piaciuto, però questo non vuol dire niente perché dopo 50 giorni, ripeto, è l'inizio della stagione, è come se ricomincia un altro campionato. Il Napoli non ha fatto bene, l'Inter invece mi ha sorpreso in positivo, ha fatto una grandissima partita, ha meritato la vittoria, dall'inizio alla fine è normale che il possesso palla ce l'aveva il Napoli, però il Napoli ha creato poco e niente, solo l'ultimo tiro di Raspadori, però l'Inter ha meritato, li ha aspettati, è ripartita tante volte con fisicità, con qualità, con passo, ha meritato la vittoria e adesso inizia un altro campionato e si riapre il campionato, anche se io penso che tutto dipende dal Napoli, se il Napoli è quello della prima parte non c'è alternativa che possa vincere solo lei. È normale che adesso inizierà, dopo 50 giorni, giocare ogni 3 giorni diventa dura, però se il Napoli ricomincia a fare il filotto che ha iniziato la stagione, secondo me non avrà problemi, però adesso inizia un campionato diverso. Grazie a tutti.